saluto di giocatori benvenuti in un nostro nuovo video profile budget con qualche piccola aggiunta per lo strutturdeck trap tricks prima di iniziare voi sempre vi vede scrivono sono le prime esempi del mondo yuki non solo grazie mille partiamo con la lista quella che mi ha soddisfatto di più ho voluto essere il più inerente possibile con la strategia del mazzo ovvero buchi trappola manetta e partiamo abbiamo già visto tutte le creature e perché l'abbiamo messi 3 per mirmeleo ho messo solo due per di mantis perché sia dal mostro però il problema che non riesce a farti le normal quelli che vuoi specialarti riesce a special arteli con il link quindi diciamo che al limite è buono perché ti addi raccino ciampa che poi speciali però al limite te lo addi con l'ex is quindi buona molto buona però per motivi spazio al momento ho messo in due per poi magari voi potete metterla anche in tre per togliendo totte carte due perde di una perché mettono e a di una di una due per uno per per gen sea fatica è un forte perché comunque tributi ti senti due tu le trappole delle vai a togliere vuoi per attivare l'effetto di vesiculo che tu ovviamente te la metta mandi via e te la speciali vuoi perché te lo ti mandi via una trappola per colta ea e vuoi che comunque la roba va via te ne senti una dal cimitero e una dal deck quindi molto molto buono specialina gratis e arachno ciampa molto forte occhio che locca l'ex a quindi o me la fate a fine turno o magari ve la evocate tramite il link o qualcos'altro o me la fate normal oppure appunto l'ho giocata a fine turno oppure è utile perché magari la potete appunto specialare qualora magari non vorreste fare non riusciste a fare una board più più ampia vi dico solo link lei xis e 5 settate 5 settate tutti i buchi trappola differenti praticamente quindi diciamo che pure così non va per nulla male 3 per di ex head che comunque è molto forte cali link questo si è evocata la mano e tenevo che un altro dal mazzo diventano livello 4 fortissimo ti fai l'ex is 3 per di ascio oltre per di qualsiasi ht che volete veler shifter quello che volete e soprattutto quando parti secondo perché ti serve un po per cercare di tappare diversi buchi l'uno per di orchard che è utile ma non troppo e in realtà si potrebbe anche togliere perché la norma addizionale è molto molto buona il problema che comunque è difficile perché ti possono negare tanta di quella roba che se tu c'è questa ma non riesci a farti se non riesci a conseguire la board è difficile cioè nel poter è pesante se poi te ne becchi due in mano di questa è pesante è pesante è buona l'effetto è buono però pesante è un colled assolutamente perché sì perché il mazzo ht le soffre allora altre per di colta ea che potreste mettere anche a 2 però in realtà io la voglio vedere sempre in mano perché voglio il mostro in più quindi perché poi ci permette di fare un sacco di roba brigandino ok perché comunque il mostro anche la dissi in più quindi già due trappoline che ti fanno exis quello che ti pare link anche quello che ti pare molto buono permanence perché sì perché sia di ht potenzialmente negate immagine trappola se la colonna è quella giusta nega mostro fortissimo due bottomless perché bottomless sono la mia poesia di vita time space trap hole praticamente rimischia nel deck mostri evocati dalla mano dall'extra deck perdiamo mille per ogni mostro ma chi se ne frega floodgate grave digger che qui questo formato è fortissimo e qui ha più senso la trap hole nightmare perché abbiamo molte più risorse per contrastare tutti i ricicli che l'oppo ci fa la delusion trap hole non mi piace per niente non ci ho messo detto popale popale andiamo a vedere un attimino delle soluzioni di side perché l'altra volta mi sono scordato lo andiamo a vedere subito allur non l'ho messa perché puntualmente ht quindi meno 2 e piangi lei se la volete mettere per prendervi la terreno giocare più di terreno ok ci può stare dark ruler per partire secondo cercate partire per fare qualcosa di secondo perché comunque nelle soluzioni per partire secondo servono metti che primo game partiamo primo diciamo ci serve qualcosa da tentare per secondo dimension ground dimensional barrier per bloccare cimitero extra deck poi abbiamo l'artifat santum perché comunque possiamo giocare anche con gli artefatti e quindi mettiamo anche la falce storming torrential judgment dark bribe per negare magie trappole torrential per fare grande interruzione tanto nelle nostre creatore di extra sono immuni alle trappole abbiamo il kaiju ray jack già in dotazione abbiamo la giant end che è un ottimo legate e poi abbiamo se volete mettere qualche soldino di più poi abbiamo ovviamente gli x is archetipo abbiamo l'excite non che sfascia tutto dueller blocca cimitero abbiamo bagusca abbiamo redwear quindi diciamo che sono x is molto budget ma molto buoni abbiamo il link ovviamente poi abbiamo grifone grifone che è buono perché fai partire l'effetto è sempre colincato quindi ti risetti peschi e scarpe vabbè è quello e quello è quindi molto molto buono link spider perché al limite se non abbiamo risorse abbiamo soltanto la trappolina di pick up la togli file in spider parte ex head e quindi ti fai il x is colo che ti pare può essere buono abbiamo un ricordo perché un ricordo è sempre buono e appunto col fatto che ti puoi colincare un botto di roba stai abbastanza tranquillo diciamo che il grifone c'è il mazzo c'è un botto di roba per bloccare anche la borde sul terreno quindi molto molto buono diciamo il mazzo per quello che poi andrà a costare è veramente molto molto bello da giocare non vedo l'ora che esca sono molto sono molto contento e vediamo cosa uscirà fuori detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate noi come sempre ci vediamo un prossimo video e un saluto a tutti ok